Ciao ragazzi, bentrovati! Come vedete in questo momento ci troviamo di fronte all'epistore di via Roma pronti per il live e per l'iPad mini. Vi aspettiamo su ipaditalia.com come sempre e staremo qua fino a domani mattina alle 8, pronti a mostrarvi il nuovo dispositivo di casa Apple. Seguiteci! Per ora non c'è praticamente nessuno, non esiste una coda e siamo i primi! Sì esatto, siamo i primi anche questa volta e vi aspettiamo qui, abbiamo numerosi gadget quindi accorrete numerosi! Ciao a tutti!